amici e amiche di tv city ben trovati ad una nuova puntata di e kickoff la rubrica di calcio internazionale per dare uno sguardo a quello che succede in italia in europa e nel mondo in questa puntata parleremo dei maggiori campionati europei la top 5 del vecchio continente a cominciare dalla serie a italiana che ha visto trionfare dopo ben 33 anni di attesa il napoli di spalletti gli azzurri conquistano così il loro terzo scudetto dopo una cavalcata trionfale che li ha visti dominare la stagione sin dall'inizio in napoli vince il campionato totalizzando ben 90 punti a un solo punto dal suo record storico i 91 punti dell'epoca sarri al secondo posto si è classificata la lazio al suo miglior risultato dai tempi dello scudetto del 2000 i bianco celesti allenati da proprio maurizio sarri si aggiunticano il secondo posto con 74 punti segue l'inter a 72 e il milano a 70 questo è il quadro delle squadre italiane qualificate alla prossima champions league la taranta e la roma invece si parteciperanno alla prossima europa league mentre in conference league ci sarà la juventus dopo la penalizzazione di 10 punti che quindi la relega al settimo posto della classifica del capocannoniere del campionato come sapete è stato il nigeriano victor osimane che ha totalizzato la bellezza di 26 gol il nigeriano del napoli quindi il maggior marcatore del campionato italiano andiamo oltre confine parliamo di quello che probabilmente il campionato più importante più competitivo del mondo la premier league che ha visto trionfare ancora una volta il manchester city di pepe guardiola la squadra allenata dall'allenatore spagnolo si aggiunge il quinto titolo negli ultimi sei anni rimontando l'arsenal che aveva dominato gran parte della stagione ma i gunners si sono sciolti proprio nel finale consentendo ai citizen di aggiudicarsi il titolo con 89 punti l'arsenal invece chiude con 84 punti al terzo posto si è classificato il manchester united quindi le due squadre di manchester parteciparanno alla prossima champions league mentre al quarto posto una sorpresa le newcastle con 71 punti che torna quindi in champions league dopo oltre 20 anni fuori dalla champions si è classificato il liverpool che insieme al brighton parteciperà alla prossima europa league mentre in conference league ci sarà l'aston villa notare come una squadra molto importante come il celsi per esempio dopo le enormi spese dell'ultimo mercato invece non parteciperà a nessuna coppa europea il miglior marcatore della campionata è stato come sapete il norvegese erling holland del manchester city che ha totalizzato addirittura 36 gol al suo primo anno in premier league andiamo nella liga spagnola che vive come sempre del dualismo tra barcellona e madrid quest'anno la spuntata la squadra blaugrana che torna al titolo nazionale dopo quattro anni di attesa 88 punti per la squadra catalana seguita ovviamente dal real madrid che ha chiuso a 78 punti ma si è consolata con la vittoria della coppa del real terzo posto l'altra squadra di madrid l'atletico con 77 punti al quarto posto una sorpresa la rialzo sedad che quindi parteciperà anch'essa alla prossima champions league chiude la squadra basca con 71 punti in europa league parteciperanno il villarreal e il real betis mentre la conference league vedrà di scena lo sasuna il miglior marcatore della stagione spagnola è stato il polacco del barcellona robert levandowski che ha chiuso con 23 gol passiamo invece ora alla bundesliga che ha chiuso con un finale davvero thrilling la sua stagione con bayern monaco e borussia l'ortman che hanno chiuso a pari punti per i gialloneri bastava vincere l'ultima partita in casa contro una squadra che ormai non aveva più niente da chiedere al campionato ma non solo i gialloneri hanno pareggiato ma addirittura perdevano per 2 a 0 quel punto non basta perché il bayern monaco vincendo l'ultima partita del proprio campionato è arrivata a pari punti e per il regolamento del campionato tedesco i bavaresi si aggiudicano il campionato per la differenza reti il bayern monaco si aggiudica così per l'undicesima volta consecutiva pensate il campionato psicodramma per tifosi e giocatori del borussia dortmund al terzo posto illipsia con 66 punti una delle nuove potenze del calcio tedesco al quarto posto una vera e propria sorpresa all'union berlino che dopo pochi anni dal suo ingresso in bundesliga centra la qualificazione in champions davvero storica per il piccolo club della capitale tedesca in europa league ci saranno invece il friburgo il bayern e velkusen mentre nella conferenza di che parteciperà l'entrack francoforte che quest'anno che abbiamo abbiamo anche visto in champions league contro il napoli i migliori marcatori del campionato tedesco sono stati il tedesco full club del verde brema e il francese cuncun dell'ipsia che hanno totalizzato entrambi 16 gol passiamo in francia la ligand che ha un diverso metodo di accesso alle coppie europee infatti non porta quattro squadre in champions come gli altri campionati ma solamente due più una ai preliminari perché non rientra nelle migliori quattro migliori quattro campionati del ranking europeo e a partecipare alla prossima champions league ci saranno ovviamente i campioni di francia del pari saint germain che si aggiudicano l'ennesimo titolo della loro storia e il lance una vera sorpresa con 84 punti hanno strappato la qualificazione alla prossima champions league all'olympique marsiglia che arrivando terzo in campionato con 73 punti invece dovrà affrontare il turno preliminare mentre in europa league ci sarà il ren che ha chiuso con 68 punti al pari del tolosa che guadagna l'accesso all'europa league vincendo incredibilmente la coppa di francia il loro primo titolo storico nazionale in conference league invece a proda il lilla miglior marcatore ovviamente del campionato francese chi sono lui kilian bappé che ha chiuso con 29 gol diamo anche uno sguardo al resto d'europa con le squadre che hanno avuto accesso la prossima fase al gironi di champions league in cui troviamo il sevilla la squadra spagnola ha vinto l'europa league quindi guadagna di diritto l'accesso alla maggiore competizione continentale dal portogallo arriveranno il porto e benfica ci saranno poi gli olandesi del feyrenord gli austriaci del salisburgo i scozzesi del celtic glasgow i serbi della stella rossa e ucraini dello shaktar donex una menzione particolare per due squadre che invece dovranno affrontare i preliminari champions league uno è l'anversa che pensate vince il titolo belga dopo ben 66 anni infatti non vincevano il campionato nazionale dal 1957 e un'altra squadra dei turchi del galatasaray delle vecchie conoscenze del campionato italiano mauricardi ex inter nicolò zagnolo ex roma edris mertens ex napoli bene con questo è davvero tutto come sempre se volete darci consiglio suggerimenti potete scriverlo nei commenti io vi saluto che vi do appuntamento ad una nuova puntata di kickoff la rubrica di calcio internazionale ciao